buongiorno amici buongiorno amiche oggi parliamo di Rebuy il sito che promette di vendere oggetti tecnologici usati iphone samsung top di gamma pixel e comprare sempre questi oggetti quindi samsung pixel top di gamma iphone e qualcos'altro allora nello specifico io ho provato la funzione Rebuy vendere quindi ho venduto un samsung a53 a Rebuy sono andato nel loro sito che è fatto bene e c'è eda in italiano anche se da quello che ho capito l'azienda è tedesca almeno credo sono andato sul sito mi hanno fatto delle semplici domande cioè se aveva delle imperfezioni se la batteria era rovinata eccetera non c'è bisogno di caricare foto non c'è bisogno di caricare lo scontrino del vostro oggetto nel mio caso era un samsung a53 comprato su amazon perfetto come nuovo vi chiedono il colore il taglio di memoria e finite queste semplici domande vi danno una valutazione valutazione che spesse volte è alta alta anche più del mercato io infatti ricevetti una valutazione molto lusinghiera del mio samsung a53 mi pare che lo pagai 350 e loro dopo un anno mi davano 250 e prima di spedire il mio samsung andai a leggere un po in giro per i forum andai a leggere su trust pilot cosa dicessero di rebai e qualcuno ne parlava bene qualcuno ne parlava male io mi sono fatto coraggio e comunque ho venduto ho spedito il mio samsung vi premetto che nel momento in cui voi finite l'iter di valutazione che vi ripeto è molto semplice molto breve non dovete fare upload di foto non dovete fare upload di garanzia vi viene stampata una etichetta per la spedizione il cui costo di spedizione è a carico di rebai voi portate al centro ps al centro di hl al centro poste dipende dall'etichetta quale corriere ha scelto quale correre è stato scelto da rebai quindi fate il pacchetto lo spedite a rebai a spese di rebai se potete seguire chiaramente il tracking una volta arrivato in germania perché almeno nel mio caso il pacchetto è arrivato in germania tempo 3 4 giorni mi è arrivata un'email dove mi confermavano la valutazione data in precedenza quindi dove diceva abbiamo visionato il tuo samsung effettivamente è come ci hai descritto cioè nel mio caso era perfetto come vuoi essere pagato e mancavano forse 5 euro quindi magari la valutazione era 350 loro mi dicevano che me lo valutavano 3 45 una cosa una differenza ridicola dici come vuoi essere pagato bonifico o paypal io ho scelto paypal e mi pare 40 48 ore dopo ho ricevuto i soldi da rebai se la valutazione per qualsiasi motivo o perché voi avete mentito quindi l'oggetto non era nelle condizioni che avete descritto o per qualsiasi motivo rebai anziché 350 ve lo valuta 250 una volta che lo vede voi non avete perso nulla perché la spedizione dell'oggetto da rebai di ritorno al vostro domicilio o al vostro punto locker è a carico di rebai quindi anche in questo caso avete perso un po di tempo ma la spedizione dell'andata la spedizione di ritorno sono a carico di rebai e l'oggetto vi ritorna quindi la mia esperienza è stata positiva sotto tutti gli aspetti secondo me è una valida alternativa ai vari cashback di samsung supervalutazioni almeno perché io ho avuto un'esperienza positiva e mi sono trovato bene quindi faccio questo video non non sono in nessun modo sponsorizzato da rebai non ricevo nessun nessun benefit da rebai vi dico solamente la mia la mia esperienza quindi quando state per magari comprare uno smartphone o samsung o un'altra marca sul sito samsung o media world e vedete che c'è la supervalutazione dell'usato prima di buttarvi a capofitto fate sempre una valutazione su rebai e magari scoprite che vi danno anche più più soldi e che la mia esperienza positiva vi dico che andrà tutto andrà tutto bene spero che questo video abbia successo non tanto per le visualizzazioni che non me ne frega niente ma perché magari chi di voi ha avuto esperienze positive lo può lo può scrivere nei commenti e io non cancellerò nei commenti positivi nei commenti negativi magari questo video possa diventare un luogo nei commenti dove confermare quella che è stata la mia esperienza o se qualcuno ha avuto un'esperienza negativa di confutarla quindi vi saluto e ci vediamo presto con video diversi cioè con delle recensioni magari di box auto o qualcosa qualcosa del del genere ciao a tutti